Bentornati ragazzi, io sono Salaterp52 e oggi continuiamo la nostra avventura su Marvel's Spider-Man. Proprio come lo scorso è niente ci chiamano. Ok, sembra essersi staccato così di botto, non so perché. Va bene Peter, allora, quindi dobbiamo tornare al laboratorio. Comunque stavo cercando di dire, prima che il dottore ci chiamasse, che proprio come lo scorso episodio, questo lo sto registrando subito dopo aver staccato l'altro. Proprio perché il gioco mi sta piacendo, quindi sto giocando per molto tempo consecutivo. In realtà sono un poco più di un'ora, poi immagino che ho fatto già qualche taglio negli altri due video, credo, non lo so. Penso proprio di sì però. Comunque siamo arrivati, da quello che ho capito dobbiamo aggiustare il costume, comunque, ah sì perché giustamente abbiamo un taglio ecco, sopra anche al ragno. Quindi vediamo come dobbiamo fare e come diventerà il costume, o forse non cambia, semplicemente lo sostituiamo, non lo so. Giustamente dobbiamo pure aspettare che il professore se ne va, perché sennò non possiamo lavorare qui a cose inerenti a Spider-Man, proprio perché sennò ci scopre, ecco. Quindi, allora, vediamo se c'è qualcos'altro, tipo questa cosa, che cos'è, vabbè, niente di che, non so se poi ci servirà in futuro o meno da sapere. Ma non sembra esserci nulla, quindi vabbè, dedichiamoci al costume. Eh sì, vedete, ci sono tre tagli praticamente. Direi quindi di... oddio. Ah, è tornato anche il professore, vabbè, sto zitto. Che cosa ho lì? Cinese? Avessi saputo che eri qui. A che stai lavorando? Un progetto personale. Oh, ma certo. Sei tu. Io non so di cosa... Andiamo, Parker, è chiaro come il sole. Beh, mi lasci spiegare... Perché non me l'hai detto prima? Avrei voluto, ma se si sapesse, la mia famiglia si troverebbe in pericolo. Ah, certo. Visto che sei l'idiatore dei suoi costumi, sei un bersaglio anche tu. Esatto. Esatto. Tranquillo, resterà un segreto. Va. Ti lascio lavorare. In realtà credo che abbia capito tutto, però non ce l'ha voluto dire per non farci preoccupare, forse. Ok, ci siamo spiegati con un post-it sulla fronte che c'è scritto. Ok, controlla l'email, checking your email. Direi... Beh, immagino che l'abbiamo aggiustato, però non ce l'ha fatto vedere. Quindi forse, appunto, come ho detto, l'ho aggiusta e basta, senza niente di che. Il tuo ruolo di progettista del costume di Spider-Man è la definizione corretta? È la conferma delle tue doti di uomo e collega. Per quanto dedito al lavoro, trovi sempre tempo per gli altri. Spero non ti offenderai, ma ho notato che il costume è danneggiato e mi sono permesso di apportare alcune migliorie. Ti allego a un paio di idee che potrebbero aiutarti a perfezionarlo, aumentando al contempo la protezione di Spider-Man, il cui contributo alla città è enorme. Non vedo l'ora che il nostro lavoro dia gli esiti auspicati. Insieme cambieremo il mondo. Il tuo collega e amico, Otto. Ragno bianco, eh? Ah, quindi Octavius ha lavorato al nostro costume. Ora vuoi spendere i gettoni per creare il costume avanzato. Ok, quindi, non so, allora, completa missioni secondarie e attività urbane per ottenere gettoni. Va benissimo. Quindi, quello è il costume nuovo? Tieni premuto X per creare il costume avanzato. Beh, direi di farlo immediatamente. Hai sbloccato un nuovo costume e un nuovo potere. Quando crei un nuovo costume, il relativo potere viene equipaggiato automaticamente. Ok, va benissimo. Vorrei sapere il potere che abbiamo. Usa il menu poteri del costume per tornare ai poteri precedentemente sbloccati. Quindi posso avere solamente un potere a costume. I costumi possono essere potenziati con le modifiche costume. Qui puoi sbloccare ed equipaggiare le modifiche costume. Va benissimo. Questi tutorial per ora ve li lascerò, perché è la prima volta, quindi ve li lascio, poi forse li taglierò. Dobbiamo completare le attività e le missioni secondarie per sbloccare i costumi e tutte le altre cose. Dobbiamo usare i gettoni, va benissimo. Le modifiche costume migliorano la tua efficacia e incrementano attacco e difesa. Ok, e dobbiamo equipaggiare fino a tre modifiche. Ho premuto X per andare avanti e mi ha fatto il caricamento che ovviamente vi avrò tagliato. C'è questa cutscene per farci forse vedere il costume nuovo che già mi piace. con questo bianco che c'è ogni tanto nel costume. Sì, è assolutamente fantastico. Guardate che ragno dietro, ma è bellissimo. Penso che questo sarà il costume che utilizzerò per tutto il gioco, a meno che non ce ne sarà qualcun altro di ancora più bello. Secondo me sarà questo. Allora, sì, R2 per oscillare, lo so. Non c'è un punto giallo dove dobbiamo andare, quindi forse esce più tardi. Comunque taglierò se non esce subito, che è appena uscito. Ho scoperto come gli uomini di Fisk tengono in piedi i suoi affari. Usano i cantieri. Non li hanno chiusi dopo l'arresto? No, è un'attività legale. Coinvolge più investitori. Non possiamo intervenire senza un motivo. Ma ora ce l'hai, giusto? Per questo speravo potessi controllare i cantieri e avvertirmi se noti qualcosa di sospetto. Contaci, sarò il tuo Spider-Man ficcanasso di quartiere. Quindi stiamo andando ad un cantiere, sempre di Fisk, a quanto pare, perché ci continua a dare fastidio. Ok, il caricamento è durato poco. Quindi abbiamo un nuovo gadget. Vediamo un po'. I progetti di Otto ti consentono di creare la ragnatela ad impatto. Tieni premuto X per crearla, va bene. Direi, ragnatela ad impatto sbloccata, puoi sbloccare nuovi gadget con i gettoni o i pezzi ottenuti. Ora puoi usare i gettoni per potenziare i gadget. Puoi ottenere i gettoni completando missioni secondarie e attività urbane. Ok, proprio come prima ce l'ha detto, praticamente. Non so cosa fa. La provo adesso, tanto dobbiamo, a quanto pare, picchiare gente. Allora, vediamo. Queste ragnatela ad impatto, che sono queste qua nuove, mi sa. Premi R1 per lanciarla. Ah, ok. Quindi praticamente funziona come le altre. Solo che le altre succede questa cosa solamente se un NPC è vicino ad un muro e ne abbiamo lanciati sei, mi sa. Comunque direi quindi di sfidarle, queste persone. Tanto dobbiamo fare questo, quindi. Poi è da un po' che non faccio un po' di battaglia, quindi devo ancora imparare a schivare. Non sono stato ancora colpito. Merito un autopremio, mi voglio dare. Devo dire che se i combattimenti sono così pieni di roba, nel senso che ho visto il cerchio, se poi quel cerchio si riempirà con tutti i gadget, allora mi divertirò ancora di più. Ondata 2. Ok. Non so quante ce ne stanno, però se a me inizio il gioco, forse poche, vabbè, vedremo tra poco. Comunque sto giocando bene, mi hanno solo tolto 9 e mi sono appena accorto che ho 110 di vita, mi hanno colpito di nuovo, vabbè. Quindi salendo di livello, mi si aumenta la stamina, che prima avevo 100, ora 110 avevo. Mo 71, però vabbè, me l'hanno tolta. Devo imparare a far aumentare di più la mia concentrazione. Ok, quindi praticamente stavano vendendo delle armi. Oddio, queste bombe non mi fanno vedere niente. Ok, era tutto confuso. Devo stare quindi attento. Non le avevo fatte ancora esplodere vicino a me. Vabbè, non ci sono riuscito con quella, però ho capito che devo. Ma le persone che buttiamo giù le uccidiamo? Perché Spider-Man non uscite. Però se lo butto giù, penso che chance di sopravvivere non ne ha. E sono già rimasto a ondata 4. La terza non l'ho vista. Il tuo nuovo costume possiede un potere. Questi poteri conferiscono, vabbè, ho premuto X, ma è sbaglio. Il tuo attuale potere del costume accumula costantemente concentrazione. Se utilizzato, il potere del costume si rigenera nel corso del tempo. L3-R3, ok. Potere del costume è pronto. Quindi mi carica la concentrazione che posso usare sia per curarmi che appunto per fare queste animazioni speciali per battere gli NPC, diciamo così. Beh, alla fine sono NPC, quindi... Potrei tranquillamente curare un po' la mia vita anche che sono rimasto a 1 visto che continuo a prendere concentrazione. Però è più bello cercare di doggiare tutti i colpi. Sono a 1 di vita, quindi appena mi toccano sono morto. Non so se vi farò vedere quando muoio. Forse ve lo taglierò se muoio e partirà di nuovo tutto lo scontro. Ovviamente non vi farò vedere tutto dall'inizio. Taglierò al punto dove sono morto. Proprio come ho fatto poi per il primo episodio. Ondata finale, perfetto. Alla fine il taglio l'ho dovuto fare perché all'ondata finale di prima 1 di vita ovviamente non ce l'ho fatta. Solo che ho dovuto fare solamente l'ondata 4 e poi la finale. Quindi adesso, che è quella di ora, ho dovuto tagliare l'ondata 4. Appena cito scritto l'ondata finale avrete continuato a vedere il video. Ma comunque, me la sono giocata bene. Sono morto solamente una volta. Ci sono un sacco di NPC. Vabbè, sì. Sì, sono contento di non essere morto chissà quante volte. Niente, parlo e fammi andare via perché non capisco niente. Parlo e morirò di nuovo se non sto attento. Però ne mancano 3. Dai, ho praticamente finito. Devo riuscire, ok. Addoggiare qualche altro colpo. Devo evitare e non farmi colpire da questi qua con la pistola e con i razzi soprattutto. Non ho ancora capito se le persone che buttiamo giù muoiono o meno. In realtà non dovrebbero. Però abbiamo completato. Quindi immagino che adesso ci sia una cutscene. Esatto, perfetto. Allora, sentiamo che ci dicono. Cantiere chiuso, capitano. A doppia mandata di ragnatela. E qualcuno ha finalmente denunciato i colpi di pistola. Volanti in arrivo. Ottimo lavoro. Fisca ha diversi cantieri in città ma scommetto che sono altre coperture. Tieni gli occhi aperti e chiamami se vedi qualcosa di sospetto. Quindi proprio come per gli zaini sulla mappa ci saranno questi cantieri di Fisk. Non so se poi ve li farò vedere tutti quando e se li farò. Penso che li farò sicuramente. Siamo saliti al 4 e anche al 5. Cos'è questa cosa blu? Devo mettermi lì per fare qualcosa? Non ho capito. Covo di Fisk. Ah, ok. Se premo triangolo... Ok, non ho sbagliato. Sperate. Se premo triangolo me lo fa rifare? No, beh, direi che può andare così. Forse serve per salire di livello. Immagino. Sto cercando di... Ok, devo andare per di là. Bene, allora. Andiamo verso il nostro obiettivo. Non so dove dobbiamo andare. Luoghi simbolo. No, penso che quello là è quello... No, è quello che dobbiamo fare adesso. Ok, quindi... Vediamo. Cerchiamo di capire. Ok, messaggio. La prova del caporale Texidor procede come deve. Dovremmo essere a posto. È fantastico, Doc. Siamo di nuovo in pista. Sì, almeno finché il sindaco non saprà del nostro piccolo incidente. Posso contare su di te per domani? Assolutamente. Andrà alla grande. E noi cambieremo il mondo, Doc. Mi accontento di non applicare altri incendi. A domani, Peter. Sarà un gran giorno. Allora, vediamo cosa significa questi luoghi simbolo. Forse... Amo questa città. Non lo so. Scattiamo una foto. Ah, ok. Forse sì. Ok, devo scattare praticamente le foto ai luoghi simbolo di New York. R1. Perfetto. Bene. Niente di difficile. Sotto tasti. Ok. La mappa dovrebbe essere... Da esperienza. 100, però. Almeno da esperienza. Scatta fuoco ai luoghi simbolo della città per ottenere gettoni simbolo. Ok, quindi serve per prendere dei gettoni. E me lo segna sempre in mappa, quindi ottimo. Visto che non saprei dove andare, proprio perché non conosco la città. 1 di 16. Non ce ne sono nemmeno assai, in realtà. Il signor Lee. Sì? Peter, sono Martin Lee. Volevo solo dirti che ci serve altro tempo per la festa di May. Temo che il fattorino con la torta sia bloccato nel traffico. Oh, nessun problema. Mi avvisi quando è pronto. La raggiungerò subito. Perfetto. A dopo. C'è una bella vista da quassù. Festa di May, ha detto... Non ho capito se è una festa così o è il compleanno. May è nostra zia, ovviamente. Allora, abbiamo quindi del tempo libero. Direi che potrei girarmi la città. Provare a fare qualche missione secondaria, anche se non so dove sono. Oppure potrei andare ad attivare qualche torre. Perché se vedete, no, la nostra mappa, in basso a destra, non c'è niente. Cioè, è blu. E noi camminiamo nel blu. Quindi, se vado ad attivare qualche torre, forse mi sblocca la mappa. Quindi, a questo punto vado ad attivare quella che c'è laggiù. Proprio perché, appunto, non... Che poi, no, mi arrivano questi messaggi. 10-10, segnale, cose di rapina. Però non ho capito che segnalino mi mette su queste cose. Quindi non so come arrivarci. Vabbè, a questo punto lasciamo perdere. Se poi capirò, me le andrò a fare. Perché sarà che forse dà esperienza. Se non me le fa fare subito, non è nemmeno importante. Mi piace troppo assai che saluta la gente, Peter. Allora, direi quindi di... Ok, siamo arrivati praticamente. Devo attivare la torre, che non è nemmeno difficile da fare. In realtà non ho capito se dobbiamo attivarne tre. E poi ci sblocca quella parte di mappa. Oppure già solamente una basta. Perché poi nell'ultimo episodio... Oppure nell'episodio in cui l'abbiamo fatto. Non mi ricordo se è lo scorso. Penso di sì. Abbiamo attivato... Ok, comunque sì, la mappa me l'ha attivata. Vedete, basta a destra. Adesso ci sono i palazzi. E c'è anche un altro cantiere di Fisk vicino a noi. Però direi di non farlo adesso. Perché ci sono... Se sono di nuovo cinque ondate... Sì, vedete, c'è solamente metà mappa. Quindi devo attivare anche l'altra torre. Per sbloccare il resto della mappa. E sì, va bene. Comunque, se di nuovo ci saranno tutte le ondate. Se sono solo cinque... Solo, tra virgolette. Oppure le aumenta. Perché se la prima erano cinque, poi... Può darsi che più avanti ce ne saranno di più. Ok, quindi adesso la missione principale è andare alla festa. Solo che ho visto questo segnalino di pericolo... Su questa macchina. Quindi vorrei cercare di seguirlo per vedere che cos'è. Vedete, me lo... Obiettivo bonus. Ok, quindi in realtà è secondario. Però vabbè, questo è il primo che faccio. Ve lo lascio. Se per un triangolo mi porto sui retten sulla macchina, sì. Ok. Ho premuto un tasto a caso. Quindi... Sono stato fortunato? O no? Sì. Ok. Ho capito il tasto ancora prima di vederlo. Incredibile. Però, alla fine, è con quello che si attacca. Abbiamo sventato quindi questi rapinatori. Se sono dei rapinatori... Non ce l'ho fatta in tempo a premere il quadrato. Forse sono caduto proprio per questo. Forse se riuscivo a premerlo non cadevo. Vabbè, non è stato difficile per niente. Direi... Sì. Non arriva nemmeno altra gente. Poliziotto per caso... Ok. Perfetto. Allora me ne posso andare. Direi a questo punto di andare alla festa. E poi penso che dopo la festa staccherò l'episodio. Anche perché siamo già verso i 20 minuti. In realtà... Dovreste... Non so quanto state voi. Perché io ho dovuto fare il taglio del cantiere. Comunque... Penso che dopo questa taglio lo stesso. Indipendentemente da quale minutaggio è. Abbiamo superato i 20 minuti. Quindi ci può stare. Sempre sulla mezz'oretta il video. A me sta bene. Abbiamo un'altra rapina. Qui c'è sempre un altro indicatore di pericolo. Dov'è? Che sta forse di sopra. Proviamo ad andare. Ok, sì. Qui c'è gente. Sì, stanno cercando di entrare. Vabbè, a questo punto direi di picchiarli. Sono anche abbastanza. Direi... Tutta questa gente nel cercare di entrare in un edificio. Ovviamente non so che cosa c'è qui dentro. Però... Sembra un po' esagerato. Pure con le pistole stanno. Vabbè, niente di difficile. Proviamo a buttarlo giù e vedere che cosa succede. Ok, io ho lanciato una ragnatela. Però è caduto. Ma quindi... Non lo so. Perché buttandolo giù muore. Non c'è proprio verso. Il palazzo era altissimo. Vabbè, lasciamo perdere. Beh, effettivamente l'affitto andrebbe pagato. Però se i soldi non li abbiamo mi sembra un po' difficile. Sono arrivato. Devo mettere... Cioè, cos'è qua? È una borsa. Ah, ok. Ho capito. Sì, perfetto. Ci siamo cambiati. Quindi siamo arrivati alla festa. Ah, Fist. Ok. Siamo dove Peter, in vestiti di Spider-Man. Avevamo consigliato di venire alla spia, tra virgolette, dello scorso episodio. C'è gente che interagisce con noi. Vabbè, direi che non è niente di importante, a meno che non me la fa fare davvero la partita a scacchi. Se me la fa fare, non so, penso di tagliarvela. Non me la fa fare. No, no, no. Non me la fa fare. Vabbè, peccato. Mi sarebbe piaciuto giocare. Peccato, però, avrebbero potuto implementare una partita così a scacchi. Alla fine, non so quanto può essere difficile. Devono solamente impartire delle specifiche mosse a un'IA, un NPC e basta. Vabbè, parliamo con chi è? Ah, è Martin lì, immagino. Sì, ok. Non c'è nessun problema. Tieni la impegnata mentre ultimiamo i preparativi. D'accordo. La mia zietta preferita. Peter, che bella sorpresa. Ti aiuto? Eh, sì, certo. Ho degli scatoloni pesanti. No, no, non intendevo, non intendevo quello. Insomma, sono qui per... Volevo parlarti, ecco. Ok. Ok. Peter. Sei nei guai, forse? Ti servono soldi? No, no, beh, sono un po' indietro con l'affitto, ma... No, 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 sto bene. Problemi di cuore, eh? Cosa? Ma no, figurati. Spero ancora che tu e MJ torniate insieme. Lei è unica. È vero, ma... I vostri figli sarebbero bambini stupendi. Peter? Cosa c'è? Coraggio, puoi dirmelo. Beh, vedi, in questi anni... Mi hai aiutato con il college, hai lavorato qui. Hai fatto davvero tanti sacrifici, senza mai chiedere nulla. Servirebbero più persone come te a questo mondo. Ha ragione. Cinque anni fa sei entrata qui e mi hai detto che le mie opere di bene ti hanno ispirata. Ora sei tu a ispirare me. Grazie, May, di tutto. A tanti altri anni di servizio. Ti ringrazio molto per questa festa. Vorrei poter fare di più. Beh, zia May dice sempre chi aiuta qualcuno. Aiuta il mondo. Dovremmo mandare May a scambiare due parole con il sindaco. Devo scappare. Grazie ancora per la festa e il resto. L'ho apprezzato davvero tanto. Sembra essersi arrabbiato perché ce ne dovevamo andare. Comunque alla fine non era una festa di compleanno, ma solo una festa di ringraziamento. Direi a questo punto di uscire. Io penso che vi saluto anche se non so. Vedo cosa succede e poi decido. Ok, non c'è nessuna cazzin. Ok, sentiamo. Ok, allora ragazzi. Nel frattempo che ci vado vi saluto e questo lo vedremo nel prossimo episodio. Vi ricordo di iscrivervi al canale se vi interessano i miei contenuti. Di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Di commentare e condividere con tutti i vostri amici. In descrizione trovate il mio Instagram, venite a seguirmi e noi ci sentiamo al prossimo video.